E ciao a tutti ragazzi, sono Gennaro il Pescivendolo e oggi parleremo di tre argomenti importanti Rivaul, il Battle Pass, Twitch Iniziamo da Twitch, vi ricordo che sono tutti i giorni live su Twitch a orari indefiniti, fino a orari indefiniti, sempre live Quindi potete trovare tranquillamente il link sotto, cliccare, mettere il follow, fare la sub se avete l'Amazon Prime Se non avete l'Amazon Prime usate i soldi E niente, ne parliamo là se fate la sub, se non fate la sub non ne parliamo perché tanto sono rimasto solo io come youtuber Quindi o seguitemi o seguitemi Che ma fa?